Sì, ma che cazzo ne so? Cazzo, c'è nessuno Un motore Eh, di solito ti consiglio sempre sul soffitto Oh, ma cos'è che mi spara? Ah, ok, perché mi ha sparato Le fa scoppiare da lui, capito? Ah, è una porca Si sta rampinando uno, ci va A casa Oh, due scale rotonde, scale rotonde, raga Scale rotonde, due Uno è morto Ok, scale rotonde Andato l'altro Bravissimo Oh, ma che cazzo è? Il nuovo ragno Sono in due, sono in due Dello, sei più forte, Dello Ok, c'è una chiega Solo che rianto Dallissimo Bravotata Il cazzo duo, Dello, il cazzo duo No, no, adesso li metto Oh, li metto direttamente qua, si Sto bene, è la baritata, si Sto vomitando addosso, si Che scherzo Porca puttana, c'è tipo Mi viene da vomitare, uah La quantità di rotti che devo fare, che No, sto attento, divento un Un pinto No, ho messo una camorra Andiamo Occhio, ragazzi, stanno sparando wallbang Ok, ma non ho preso pure Cioè, tu pensa Doc, capri tu questo pezzo qui Bazzone Io se scopro che uno di voi che mi ha sparato Non vengo mai più a giocare a nessun gioco Oh, maestro Vedi, hai rotto il cazzo Ti serve la vita, maestro, quanto c'hai? Certo, una siringa Vedi che ho preso Un col Cap Ho preso una siringa Ho preso una mia finestra, poi Tiri occhio, eh Entrato montagna, entrato montagna, entrato montagna Ma come è possibile? Eh, no, è niente, ragazzi, la fumogenea C'è il montagna e la piedra ma perchè devo scavalpare per entrare qui campatici che mi vedono zitto zitto no controllatemi il montagna raga bello tieni questo facciamo controllare il montagna non fattere esplodere easy ahhh nel culo senti ma che cazzo era il bait mamma mia meno male che se lo faccivi saltare zuridevo stavo lì stavo fatturando attento attento che in milanese si dicono tante parole molto facilmente soprattutto quella con la n no ragazzi devo entrare nel mood no mi vogliono taccerare ci stanno taccerando hanno già aperto qua hanno già sbombolato mid hanno sbombolato oh è entrata gente è entrata gente è entrata montagne no ho spaccato un drone ma c'è un foglio ma c'è un foglio che mi sta guardando lega hai one shot montagne ho fatto il nomad stavo a montagne ho fatto il nomad ho fatto il nomad ho fatto il nomad ho fatto il nomad ma chi è che è svinuto davanti al portone boys? io ma questi sono in quattro urlo della guida per due milioni per due milioni veramente due milioni sono portanti centomila euro non mi lavo neanche il culo ma per due milioni per lasciamela godo zi madonna per cinque mila euro ah si io l'ho già lasciata senza che nessuno mi pagasse è solo per la scusa due milioni cioè per due milioni io non sto scherzando ma forse potrei anche far tipo almeno non sentire mia madre per tre anni cioè se posso fare due milioni ma mazza che mercenario due milioni vuol dire che io non lavoro più cioè sto bene ciao ci vediamo due milioni non da tassare guardate come metto in difficoltà gamba non mi voglio 5 milioni di euro e non vedi più Silvia per un anno solo Silvia due milioni non ci fai nulla la bocchina da Mahomet non ci fai niente due milioni non la mano più si 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 ah mio figlio se mi dici mio figlio no però se mi dici zizza cazzo amore ci mettiamo via dei soldini belli ah si la scuola dei soldini se la si può fare zio però se c'hai la live sotto aperta più saliti non li trovi sono tutti champion no no e vabbè si stava la seconda no nel senso volevo buttare il cipottino in terra ma però oh lo faccio io tutti hanno Ama te fatto un amico di gianco la mia destra una volta spiaccicata contro il muro sembrava cianco protein god si 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 ma deve andare accovacciato marzo alto f4 vediamo 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 ralentatore signori maestro cosa fa si su coltelli coltelli vai vai si ma un po sparano un po coltello sei uomo vieni qui quanto cazzo il fianco del vetro madonna cara e qua coglione adesso che è successo che torna dai lu oh oh ciao 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 ciao